Fervono i preparativi per San Cataldese Catania in programma domenica al Valentino Mazzola di San Cataldo per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D. La società Verde Amaranto fa sapere che in seguito alle direttive pervenute dalla questura di Caltanissetta, che garantirà l'ordine pubblico, ai tifosi del Catania verrà assegnato il settore gradinata, con 1.500 biglietti disponibili, mentre ai tifosi della San Cataldese la tribuna coperta e la curva. Indetta la giornata Verde Amaranto, quindi per accedere allo stadio pagheranno anche gli abbonati, ingresso gratuito per i ragazzi fino a 12 anni. La San Cataldese, che domenica scorsa ha pareggiato a Vibbo Valencia, vuol ripetere l'affermazione sugli etnei in Coppa Italia, ma il campionato, si sa, è un'altra cosa e il Catania capolista solitario del Girone. Arriverà a San Cataldo per portare a casa l'intera posta in palio. Sembrano esserci tutte le premesse per assistere a una partita di alto livello, non solo sul piano tecnico, anche su quello agonistico. Battere il Catania per la San Cataldese sarebbe soprattutto una questione di prestigio. Si prevede un esodo massiccio da Catania, quasi certamente saranno riempiti tutti gli spazi previsti per i sostenitori etnei, che finora hanno seguito la squadra del cuore, ovunque. Intanto, dopo l'ultima affermazione sulla Cireale, il tecnico Ferraro predica massima concentrazione. Il Catania non si può mai distrarre, perché al di là che il Catania l'abbiamo sia la società, sia i tifosi, sia il direttore Lanier e tutti quanti noi. Noi la classifica non la guardiamo, bisogna solo dal martedì alla domenica, pensando solo che il Catania possiamo vincere le partite. Per questo le classifiche, diciamo che davvero non le guardiamo, né io come allenatore, perché non è questa né la società, né il pubblico e né anche la stampa che possiamo pensare che il Catania sta con tanti margini sulla seconda, bisogna mai abbassare l'asticella, bisogna sempre stare molto concentrati. Soprattutto c'è una rosa importante, oggi abbiamo dimostrato, pensate che oggi hanno mandato quattro over, hanno mandato in tribuna, cioè non è facile gestire questo gruppo di calciatori. Io come allenatore vorrei poterli farli giocare tutti quanti per farli ancora più partecipi, però il Catania questo vuole, bisogna essere tutti quanti concentrati e soprattutto di dare il contributo quando andiamo chiamati.